Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo fantasticissimo secondo episodio delle ciaspite contro tutti Oggi Mamma Angie Furia e Lucky Salutate pure Ciao Eeeh Oggi andremo a fare la solita privata delle ciaspite Con la piccola particolarità consigliataci da Legigio e Dradrian lo scorso episodio Ovvero di utilizzare solamente armi blu, verdi o bianchi, quindi armi lui leggendari Come al solito super abilitate, pesanti non abilitate Eeeh Prima di iniziare Penso che questa privata per noi andrà abbastanza male Perché Lucky fa anche recovery per Lunas e Not For Gotten Quindi vediamo come andrà noi Poi magari ci spiega meglio lui perché io so poco Vabbè Grazie intanto Nella pubblicità No vabbè Ogni Ogni fine settimana streamo su Twitch Adesso dovrò fare un altro canale con questo nome qui Che così Mi riconoscono prima Vabbè Faccio Carring come ho già detto di Luna e Not For Gotten Eeeh Per adesso non c'è nessuno perché li ho finiti tutti Quindi Prima Chi prima viene Prima alloggia Diciamo Ottimo Rai che c'ha una sola terra e mano nella mano Che non so che armi sia sinceramente Furia c'ha presa male e Lagrona PR2 Che ha cinetti Ah no ok Mi sembrava fosse un Un fusione Dove essere cinetti come sono spaventato Lucky invece c'ha Presa male anche lui ha grona Non ho mai provato l'agrona Com'è? Tipo il Com'è che si chiamava quell'impulsi che c'era nella beta Che tutti savano Ma non mi ricordo Io l'ho scoperto tipo Cosa secondo account per fare il Luna 1 A grona Cosa cazzo Poi non c'è anche l'arma leggendaria La grona PR4 Tipo Si La PR4 Si Che fa mi hanno copiato tutto Non mi ricordavo bene Però l'ho usato Ah beh io non ho fatto degli gioco Con Roslysis e Aken Dottor ragazzi Pensate Alla sfida per il prossimo episodio Perché Sì Ho già ci preparato Vindu Aiuto Questa soppressione dura 80 Ok Niente ma è un po' aperto Io Roslysis non l'uso da 8 anni Quindi Sento che comunque loro hanno impulsi Che cazzo è quella roba shotta Quando ti aggancia Sì ma poi Prima che non mi aggancia No che triste Abbiamo stimato male Abbiamo fatto Un po' di switch in due Mano nella mano È sempre formidabile Oh vai Quando aggancia Quando aggancia Roslysis fa male Ah vabbè ma perché Tu c'è quella tumorata Che sono le Ma che cazzo vuoi Sto giocando con la maschera Ma scramano occhio tu Ma stai usando il pezzo Quello dello stregone Che tira Le manella Però senza Ovviamente abbiamo Abbiamo abolito Il vantaggio Dell'evento Quello che tira Le granate infinite Altrimenti Infine o più No è veramente La gente si lamenta Tanto De 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 nefaste Ma anche Lo stregone La con Com'è che si chiama Il pezzo Artista in fuga Ah Le braccia Le braccia Sì E fino Non mi ricordo Mi si chiama Artista in fuga Vabbè eccole là È una bella Bella Attenta Tommy Non ti viene da destra No Pensavo l'avessi ucciduto Eh niente Io no Oddio Mi sa che non ho cambiato la super O forse sì Non mi ricordo Io Tommy salvami Come faccio a salvarti Che cazzo mi chiamo Mandraken Ero scappato da tutto Ma quando sto giocando Io ci abbo Non riesco più a metter un colpo C'è i rumori più Vari in casa mia No ma che è Aspetta Non spara più Sto cazzo La mia È veramente Inconcepibile Sto fare una gittata No Infatti Il canno portato Sì ma pensavo Avesse la gittata Della promessa Trocionata Non è minimamente No Non è minimamente La cosa No no Ora io sono col dubbio Nel vedere Quale corpo a corpo Cioè quale super Buono Diciamo buono Il primario Quello Blu 140 primari Non riesco a metter un colpo in testa Io non lo posso Solo impostare anche io Cioè chi non A giocare un po' con quello No Dio santo I fumogeni Chi li ha inventati Secondo me bange Sì no C'avevo quella sbagliata Facca Mi sa Micà Mezz'ora che ti sparavo L'Alocatempeste Fa veramente come gli pare Ogni tanto Niente No ma Niente Uno Non ho mira raga Oggi Cioè t'ho sparato tipo Ciao No ma Ora io ti spoglio Dei tuoi poteri Il nome di mio padre E suo padre Prima di lui Io Ti bandisco Fammi traierdare via Qui abbiamo incontrato Purcil In comp Troppo fortunato Da solo Non è tutta sta roba Ma Ma è veramente forte comunque Ah sì è forte È forte Pronto Gente tipo Ma C'è quella gente lì Allora Si può ancora dire Non è tutta sta roba Confronto Mi cambio Cosa Mi prendo il cieco Oh Ah non ce l'ho fatta Dammi 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 Dove va Dove sta andando Impulso eonico Mi ha volato via No dai È stato mezz'ora Insegui il impulso eonico Vai Qual è il primario O il secondario Questo che hai messo tu? Primario Ho preso il primo Che c'era Io il secondario Ancora dovrei Andare a farmarlo Fattelo No Dove 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 Niente È mortissimo Perché c'è la destra Ma io manco Spacca Sa fare No Ma salta Se sapete Ah io Questo è bello Uuuuh Si è fatto male To me Dai vabbè Vero e vero Lucine piovere Vedi lucine È un potenziato È bene Stai manato Io però Mi stavo facendo I fatti miei Qua si è fatta Una collata No No Non è morto Che palle L'ho spenta Prima Pensavo fossi morto Niente Fa troppo male Sta fai Cioè io Non riesco Manco a Minare Adesso Certi in tre minuti Prendo una casa Vai Prendiamo così Ma io sa Da star No Ma questo invece Non è male No Non c'è È buono Sì ma Niente Spara un po' lento Questo però Non è male Eh no Non è male per niente Cosa c'è Ma Ma Sono il paria Ahia Ah il paria Quello Noo che long Che long shot Sono bellissime le mappate Tira sto con Ma basta di Ma cosa Prima ho detto Sono sparito Tutti e due Ahia No Questa me la devo Non me la devo ricordare Ho preso Ho preso Ho preso Ho preso Ho preso Bello Ho sparato In destra lui Ho preso Bello E vabbè Comunque Questa cosa che La sta super Non ha un minimo Di residenza In più È veramente Una cacata Cioè Non puoi fare Che una super Vi è riuscito A dare un colpo Di cecchino a basso impatto E vabbè Leggermente aperti Niente Io penso Che avevano fatto Tipo Meno 0,2 Io ci vengono malissimo Raga Non lascia fa Guardate Ho fatto 0,5 Io Eh dio santo Guarda Hai fatto 18 18 Meno della metà E vabbè E vabbè È andata così Dai Ci sta Comunque La sfida Io non so Come deve essere Proprio Ah la sfida Vai vai Dimmi Cioè stavamo Pensando io E furi Cosa con le pistoline Tipo le armi da supporto Che non se le carano Nessuno Tipo solo pistoline Vabbè O primaria O secondaria Vabbè ce ne sono E poi Che ne so Un cecchino O qualcosa del genere Vabbè ci sta Il prossimo episodio Solamente armi da supporto E cecchino Ci sta un bolto Quindi tipo O vicinissimi O lontanissimi E tra l'altro Non vi ho detto Come partecipare Per partecipare Al prossimo episodio Vi basta commentare Qua sotto Con il vostro nick PS4 Perché siamo Su PS4 E l'hashtag TheCesprit VersusMe Che comunque Vedete in grafica E semplicemente Poi domenica Verrà effettuata L'estrazione Per il prossimo episodio Che ci metteremo Che ci metteremo d'accordo Poi Per registrare Detto questo Io ringrazio Tantissimo Lucky E Furia Per aver partecipato Mi sono intortato E detto questo Vi direi che se il video è piaciuto Se lo ha commentato E condividetelo Tutti quelli che conoscete Che non conoscete Vi lasciamo a seguire Su Instagram Facebook E con i miei video Vi lasciamo Questa in descrizione Anche da bellissimo Nuovissimo Fasicissimo Sito E detto questo Ci vediamo Alla prossima Ciao Io sono Gaud E la tua luce È mia